Ci sono note galleristi, scenografi, scultori, designer di gioielli o vestiti di livello internazionale. Nessuno più di questi giovani affermati artisti piacentini può essere di miglior auspicio per gli attuali studenti del Liceo Artistico Cassinari, istituto che ha scelto di dedicare il calendario 2014 a 12 ex alunni, divenuti star del panorama artistico contemporaneo. Non si tratta solo di un'iniziativa celebrativa per dare il giusto risalto a chi è riuscito a emergere, ma soprattutto di donare un input positivo ai ragazzi che sperano un giorno di realizzare i propri sogni. La presentazione e l'incontro con i protagonisti al calendario si è tenuta nel pomeriggio davanti a un folto pubblico di studenti e insegnanti. Tra loro, ospite del mese di gennaio, lo scultore Cristian Zucconi. Che cosa vorresti dire ai ragazzi di oggi che sono qui al Liceo Artistico? Probabilmente di non fare la stessa strada che ho fatto io, nel senso che comunque io ho rischiato grosso sulla mia pelle, nel senso che comunque non ho continuato un iter scolastico che è canonico e ho avuto la velleità e l'incoscienza di credere di poter vivere d'arte e fare soltanto l'artista. Quindi quello che mi sentirei di dire proprio a questi ragazzi è il fatto che avere forse a volte anche un po' più di pragmaticità e tenere un po' i piedi per terra a volte può anche servire. Per il fatto di un certo tipo di sicurezza è chiaro che rifarei le stesse esatte cose che ho fatto pur rischiando, quello sì.